Grazie ad una borsa schermata erano riusciti a farla franca, portando via dieci paghe di scarpette da un negozio, ma non avevano fatto i conti con i poliziotti che da tempo erano sulle loro tracce e che hanno arrestato la banda specializzata in furti di questo genere. È successo a Fogliano, al Valdichiana, a Utrecht Village. I malviventi, tre uomini e una donna, tutti cittadini peruviani e ventenni, utilizzando la borsa schermata con carta stagnola e scotch, erano infatti riusciti a deludere la sorveglianza. Grazie a questo trucchetto, i ladri, dopo aver infilato nella borsa le scarpe, erano infatti riusciti a non far scattare l'allarme senza dover rimuovere l'antitaccheggio. Una volta messo a segno il colpo, la banda era tornata all'auto pronta per darsi alla fuga, ma qui sono scattate le manette. I poliziotti del commissariato di Firenze erano infatti già sulle loro tracce. li avevano notati in macchina e così li avevano seguiti. In borghese avevano poi atteso il momento giusto per bloccarli e arrestarli. Il giudice del Tribunale di Arezzo adesso ha convalidato l'arresto. Per i quattro è scattato l'obbligo di dimora e di firma. La merce, per un valore di circa 1000 euro, è stata invece riconsegnata al negozio.